Ciao a tutti e ben ritrovati su Dentro la Scatola per un nuovo unboxing. Oggi come potete vedere apriamo insieme questo Mystic Veil, un titolo di John D. Clair per 2-4 giocatori della durata indicativa di circa 3 quarti d'ora a partita, edito in Italia grazie a Raven. Titolo che fa del card crafting system la sua arma principale, ovvero sia il fatto che creerete proprio le carte che userete durante il gioco, quindi un sistema molto interessante, un artwork mozzafiato, direi senza ulteriori indugini andare a vedere cosa c'è dentro la scatola, quindi vediamo che si apre abbastanza bene, quindi sigla e ci vediamo qui tra poco. Benissimo, un'occhiata come sempre appunto all'artwork che davvero mi piace tantissimo, costruisci le tue carte con il potere della natura, car crafting system, quello che appunto vi anticipavo, quindi un tema fantasy come potete bene immaginare, qui appunto c'è una panoramica che vi fa vedere appunto, che vi permette di raccogliere dei potenziamenti per le varie carte, di unirli per formare appunto delle carte sempre diverse tra di loro. Sono molto curioso, quindi senza ulteriori indugini direi di andare a vedere dentro la scatola, che si apre molto facilmente e ci accoglie come di consueto il regolamento. Regolamento che appare piuttosto corposo, devo essere onesto, e effettivamente in realtà è più che altro la carta che è molto spessa, però vedete come si ha sicuramente molto scritto, fortunatamente ricco di esempi, appunto regole aggiuntive, insomma poi delle parti che vi spiegano ulteriormente le carte, quindi c'è sicuramente tanta tanta carne al fuoco, quindi queste sono 24 facciate, appunto però contate che questa è una guida di riferimento, ci sono tanti approfondimenti. Questa, questa è una carta avanzamento per proteggere, ecco quindi, ah è vero, vero, perché leggevo infatti che qui c'è praticamente una doppia patina, un rivestimento è pensato per essere rimosso semplicemente staccandolo, non ostacola il gioco, quindi suggeriamo di fare qualche partita senza rimuoverlo, quando iniziano a staccarsi da soli di staccarli tutti insieme, ho capito benissimo. Quindi ecco questa è semplicemente una scheda informativa, fustelline, tante fustelline, defustelliamo una, che bel cartoncino, un ottimo cartoncino davvero, questa sarà molto divertente da defustellare, molto bello il cartoncino solido. Proseguiamo, abbiamo dunque queste, questa è una genialata dal mio punto di vista, ovvero sono praticamente delle bustine per carte che sono già presenti all'interno del gioco. Io credo che questo sia davvero una cosa molto interessante e pollice in suo questa iniziativa. Proseguendo qua, che sono un filino piegate purtroppo, addirittura sono quelle carte che permettono appunto, cioè sono ad esempio quelli di plastica, non so se li riuscite a vedere che in qualche modo cercano di proteggere il contenuto, direi di aprire una di queste giusto per vedere insieme di che cosa si tratta. Vediamo un po', abbiamo appunto una serie di carte, carte un pochino leggere però appunto contando che poi verranno imbustate, questo va sicuramente a loro favore. Mi piace molto l'artwork, già dalle foto che si trovavano su internet, questa è una carta riepilogativa, appunto, tutto anche un riepilogo dei vari simboli, quindi c'è sicuramente un aiuto per i giocatori. Abbiamo, ecco queste sono le carte che andranno a formare il cosiddetto car crafting system. Vediamo un po'. Si è vero, effettivamente si sente che c'è un altro rivestimento al di sopra di esse che le protegge ulteriormente, quindi pollice assolutamente in su a tutto questo che permette davvero di proteggere al meglio il gioco. Che bello. Questo davvero non vedo l'ora di provarlo perché questa meccanica mi ispira tantissimo. Non sono un grande fan dei deck building, di tutte queste cose, cioè mi piacciono per carità, però quando ho letto di questo gioco non so che cosa mi abbia preso, ma mi ha ispirato davvero tantissimo e non vedo l'ora di metterlo sul tavolo, se riuscirò mai ad aprire. Niente, è un dramma, è un dramma. Facciamo una bella cosa, aspettate, vediamo se riusciamo a ottenere un paio di forbici, perché questa volta mi sono munito, per cui senza fare disastri dovrei almeno aprirne un pezzettino, ecco infatti che viene tutto via. Che bello. E queste sono appunto altre parti trasparenti. Sì, sì, anche qui si sente nettamente la presenza di un ulteriore rivestimento. Che belle, mamma mia. Mamma mia, questo sistema mi ispira un casino. Un casino è dire poco. Infatti sentite come queste carte tendono un pochino a sfaldarsi proprio per questo rivestimento, però non vedo l'ora di vedere come siano poi effetti. Va di che brutto rumore che fanno, mamma mia. Mamma mia che brutto rumore. Non mi ispira questo rumore. Ce ne sono altre. Questa volta però non mi farò fregare e mi porterò avanti. Vediamo un pochino. Senza tagliarci un dito. Va bene che non vivo lontano da un pronto soccorso, però sfido io a andare. Sì, guardi, stavo facendo un video su YouTube e mi sono amputato una falange. Che belle, che belle. Ho quasi paura adesso a farle scorrere per quel rumore indicibile e fastidiosissimo, però ecco, ogni carta plastificata ha davvero una ottima, ottima sensazione in mano. Sono proprio curiosissimo ragazzi, davvero. Non vedo l'ora di metterlo sul tavolo. Lo aspettavo con ansia e quando l'ho trovato a un buon prezzo non ho potuto appunto non farlo entrare nella mia collezione. Bellissimo anche l'inserto. Poi dopo una volta suddivise le carte sarà curioso vedere come si riporranno appunto al suo interno, però una produzione davvero notevole e queste sono davvero secondo me un piccolo tocco magico che aggiungono ancora di più se vogliamo alla produzione. Quindi davvero una grandissima cosa. Benissimo, questo era l'unboxing di Mystic Veil. Spero appunto lo abbiate gradito. Io vi ringrazio come sempre per aver seguito un altro video di Dentro la Scatola, un altro unboxing insieme. Naturalmente se l'avete provato voglio i vostri commenti qua sotto, voglio sapere che cosa ne pensate. Anche io per avere sempre più opinioni su cosa aspettarmi da questo titolo. Vi ringrazio ancora una volta. Vi ricordo che sono attivi il canale Telegram e la pagina Facebook e noi come sempre ci vediamo al prossimo video. Ecco. Al prossimo video. Le indo by...